bravo fate sempre cinque lui Giulia è giusto per lui perché non c'è la conseguenza lui essendo figlio di di cose io tante mi dai l'altro ghiottone bravo bravo ma è stata venduta e quindi è stata accoppiata con altri cani di altre linee di sandra e allora va bene per lui è figlio di comunque solo di un cane mio ma la mamma è di altre linee e per Giulia va proprio bene è bene husband for Giulia